Cosa può causare un polso gonfio? La causa più comune di un polso gonfio è una lesione risultante da un trauma. Le fratture ossee, le distorsioni dei legamenti e le tensioni muscolari possono portare a gonfiore all'interno o intorno al polso, sebbene altre condizioni che non risultano da un trauma possono anche portare a un polso gonfio. L'artrite e le tendiniti sono condizioni comuni che portano al gonfiore, e che il gonfiore è spesso accompagnato da dolore o dolorabilità, oltre che ridotta mobilità in alcuni casi. Condizioni più gravi possono includere infezioni che devono essere affrontate immediatamente da un medico. L'artrite si verifica quando la cartilagine e i legamenti dell'articolazione cominciano a consumarsi, causando dolore o fastidio. Un polso gonfio può non essere necessariamente un'indicazione di artrite se il gonfiore è l'unico sintomo, ma se il gonfiore è accompagnato da dolore, mobilità limitata o debolezza, quella persona dovrebbe consultare un medico per scoprire se l'artrite è la causa. Sfortunatamente non esiste una cura per l'artrite, quindi il trattamento di solito comporta tecniche di gestione del dolore, tra cui farmaci, esercizi di mobilità, esercizi di forza, riposo, glasse e così via. A volte un polso gonfio è il risultato dello sviluppo di una ciste gangliare. Questo è essenzialmente un insieme di tessuti che può alterare il normale funzionamento del polso e, sebbene doloroso, non è necessariamente una condizione seria. Questo tipo di cisti è spesso noto come cisti biblico, poiché un metodo di trattamento antiquato includeva la ciste con un libro pesante, molte famiglie povere non potevano permettersi libri diversi dalla Bibbia, quindi era usato per svolgere questo compito. La chirurgia è possibile rimuovere o irrigare la cisti, anche se questo potrebbe non necessariamente prevenire una ricorrenza. In molti casi, il gonfiore si attenuerà da solo con il riposo, e il dolore si placcherà con esso. Tra gli utenti di computer, la sindrome del tunnel carpale, CTS, è una causa comune di disagio al polso o al polso. Questa condizione si verifica quando il nervo mediano del polso o della mano si comprime, causando dolori lancinanti, pulsazioni opache o un dolore generale. L'uso di un mouse del computer o la digitazione per lunghi periodi di tempo può portare a CTS, e un malato dovrà spesso modificare le sue abitudini quotidiane per evitare che la condizione si ripresenti. I farmaci antinfiammatori possono anche portare ad un certo sollievo, anche se questo è considerato un trattamento temporaneo che dovrebbe essere combinato con passi più a lungo termine.